Guarda, guarda, guarda qui! Cosa è successo? È arrivato il DBCM 24 ottobre... 24 ottobre ci siamo! La destinazione di oggi si trova in provincia di Bergamo, a circa un'oretta da Milano ed è un paesino con meno di 1500 abitanti, ma pieno di storia e di importanza strategica vista la sua posizione. Ed eccoci arrivati a Clanezzo, ovviamente un comune composto da due borghi di Ubiale e Clanezzo dove passa il torrente Imania che sfocia nel Brembo ed è un punto molto strategico perché qua tre valli della Bergamasca si uniscono Valle Brembana, Val Brembilla e Valle Imania. È un luogo sospeso nel tempo, suggestivo e pieno di scorci sui ponti che veramente lasciano senza fiato. Il percorso praticamente inizia qui dove c'è il castello di origine medievale che negli anni ha mutato parecchie volte forma fino a diventare oggi un ristorante e location per eventi. Ora proseguiamo lungo la mulattiera fino ad arrivare alla dogana che è posta sulle rive del fiume. A questa prima deviazione andiamo a destra verso la prima opera di attraversamento che incontriamo ovviamente che si tratta del ponte di Attone commissionato nel 1975 da un conte di Lecco che governava questa zona. Si, sono palesemente i perni di un cancello, uno, due, tre e quattro. Ah quindi non era libera a tutta? Ah forse per la casa? No, questa era la dogana, posto di blocco, dove arrivavi da lì o da qua e dovevi andare al posto di blocco. Quindi qua c'era il cancello. E qua dove eravamo? Quali sono i blocchi potentati? Abbiamo da una parte la Serenissima di Venezia mentre dall'altra abbiamo Milano. Ora ho lasciato il ponte alle spalle e torniamo indietro tramite questa scorciatoia bellissima. e andiamo a vedere quello che rimane. Quello che vedete alle mie spalle è il porto, molto piccolo ma di grande importanza perché da qui partivano le imbarcazioni per il trasporto merci da una parte all'altra della sponda delle valli. E' rimase in uso fino a quando non venne costruito proprio un ponte adibito al trasporto merci. Ed eccoci arrivati alla fine di questo percorso che ci ha portato alla passerella in fine ponte tibetano, letta anche ponte sospeso o ponte che balla, che unisce le due valli ed è della lunghezza di 75 metri. Va bene Luca, siamo arrivati alla fine. Il ponte smettila di ballare. No, a parte le parolacce. Adesso arriviamo dall'altra parte e ci facciamo un altro giretto col drone. No, a parte le parolacce. Tra l'altro Luca che sta gentilmente facendo da operatore, la storia che è legata a questo posto ci trasporta direttamente nel Medioevo, quando questa zona era contesa tra Guelfi e Ghidellini. Difatti era sotto il controllo dei Visconti di Milano che erano nemici giurati della Repubblica di Venezia. E verso il 1400 la provincia bergamasca diventò di fatti di dominio della Serenissima. Come abbiamo visto prima c'è la dogana, cosiddetta dogana veneta, che emanò dei mandati di arresto per le famiglie nobili proprietari di tutta questa zona che si opposero a questo cambio e costruisse tutto il resto della popolazione a sgomberare scappando verso Milano che era la città più vicina. E la curiosità interessante legata a questo fatto è quella che questo luogo prima si chiamava Brembilla Vecchia e le persone che furono sgomberate da qui e che andarono verso Milano avevano come cognome principale o Brembilla o Brambilla, quindi gli attuali cognomi famosi di Milano. Ok, siamo tornati in macchina, abbiamo concluso tutto il giro che in di per sé è corto, 30-40 minuti non di più per farlo tutto e per arrivare anche fino alla dighetta che c'è in fondo. Noi ci abbiamo messo circa due ore e mezza, facile da percorrere, molto interessante, soprattutto la parte del porto che è in fase di ristrutturazione, probabilmente ci faranno un ristorante, un'osteria, un museo, chi lo sa. Veramente bello, abbiamo beccato anche una bella giornata anche se è il 24 di ottobre. C'è il DPCM. È uscito il nuovo DPCM e Luca probabilmente ha passato tutto il tempo a leggerlo e a obiettare su qualsiasi cosa. Vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!